La parola di Dio, la musica, il canto, le preghiere. In questo periodo quaresimale a Sarno fervono i preparativi in vista della Pasqua, in particolare sono stati organizzati incontri di grande gioia ed interesse alla parrocchia di Foce a Sarno. Domani è previsto il terzo incontro di preparazione alla Pasqua con un'iniziativa di padre Francesco Maria Rea che sta riscuotendo successo tra i fedeli avvicinando tanti giovani alla parrocchia. Pace e riconciliazione le parole chiave utilizzate in questo periodo perché bisogna riscoprire i motivi della venuta di Cristo sulla terra. Gesù è venuto per salvare l'uomo perché potesse risorgere e risollevarsi. Quaresima tra parola meditata e cantata, questo è il titolo del terzo incontro per Pasquale che si terrà domani nella parrocchia Santa Maria della Foce con la presenza del trio Canticum Cordis con Fra Vincenzo Ippolito e attraverso la parola di Dio si andrà avanti in questo percorso spirituale giungendo preparati alla gioia della Pasqua. Ne abbiamo parlato con padre Maurizio Albano, cappellano dell'ospedale Martiri di Villa Malta di Sarno. Con quattro incontri tra preghiere, canti, riflessioni sulla parola di Dio. Questi tre incontri, quattro incontri praticamente, è il modo come andare verso la Pasqua, arrivare alla risurrezione attraverso la riflessione sull'impegno di conversione, l'impegno di carità, l'impegno di servire il prossimo. Questi quattro incontri sono tenuti da quattro giovani, il primo è il parroco e poi ci sono altri due ragazzi che sono, uno è un violinista e l'altro che suona al piano. Questo è chiamato, questo è il trio Canticum Cordis. Attraverso la parola di Dio, la musica e il canto ci guideranno nell'itinerario spirituale per aprire il cuore al Padre misericordioso in questo tempo quaresimale e giungere così alla gioia della Pasqua. Ecco, questo è il programma di quattro incontri. Due sono state già tenute, il terzo è il 24 alle ore 20, sempre ripeto, nel santuario della Madonna di Foce e a Sarno e il quarto ci sarà dopo Pasqua, precisamente l'8 aprile. Ecco, è un momento veramente gioioso di partecipare, ascoltare la parola di Dio, pregare con il canto perché noi sappiamo che se veramente il canto è fatto bene è una preghiera bellissima che ci eleva al nostro animo verso Dio. Attraverso l'ascolto della parola, attraverso la riflessione di questo professore di Sacra Scrittura, Padre Vincenzo Ippolito, attraverso il canto noi veramente possiamo prepararci degnamente perché la Pasqua possa essere per noi un momento di risurrezione, di conversione verso Dio e verso i nostri fratelli.